e il trenino che fa ciuffe 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 ecco qualcuno in questi giorni in cui si parla del ripristino della ferrovia centrale Umbra adesso passata a reti ferroviarie italiane qualcuno ha usato questo sorta di pensiero non so neanche se era una canzoncina in voga qualche decennio fa o se è solamente un ritornello di qualche profacola delle nostre zone dunque c'è stata l'inaugurazione della ferrovia che è stata resistemata a tempo di record devo dire da reti ferroviarie italiane e quindi tutta la tratta che va da città di Castello fino a Ponte San Giovanni è stata rimessa a nuovo tornano i binari che contano ma per motivi ancora legati ai passaggi a livello a quelle che sono i sistemi di sicurezza eccetera eccetera ancora i treni dovranno viaggiare a 50 km orari di velocità massima per andare da città di Castello a Ponte San Giovanni sarà un bel viaggio qualcuno dice tra un'ora e 35 e un'ora e 45 dipende dalle fermate che dovranno essere fatte da quante persone dovranno salire e scendere sulle fermate e resta in questa situazione di euforia perché certo è stata ripristinata la ferrovia è stato dato modo alle persone dell'Alto Tevere di poter tornare a sfruttare quello che era il trenino della ferrovia centrale Umbra ci sono ancora problemi legati a quello che è la tratta da Ponte San Giovanni a Terni che ancora non si sa quando potrà essere ripristinata c'è ancora il problema che lega città di Castello, San Giustino e San Sepolcro qualcuno mi dice ma San Sepolcro in Toscana vai tu che ce ne può importare a noi però San Sepolcro è comunque un borgo perché così lo chiamano i biturgenzi è un borgo con svariate migliaia di abitanti che arrivano a Perugia per l'università che arrivano a Perugia per lavoro e che sono costretti o a prendere un pulmano o a prendere la vettura di quella tratta non si sa che fine si avrà e tantomeno si sa quello che sarà il problema tra Ponte San Giovanni e Perugia già perché tra Ponte San Giovanni e Perugia ci è stato detto che sono 300 giorni e sono 3 anni, 900 giorni lavorativi all'incirca per ripristinare quello che è la tratta tra Ponte San Giovanni e Perugia qualcuno mi dice ma vedi Tasso tu sei sempre un polemico perché stai a pensare che i ritardi eccetera eccetera in fondo hanno detto che per andare da Ponte San Giovanni a Perugia con l'elettrificazione a rifare tutto quanto il percorso eccetera eccetera ci vogliono 3 anni e 3 anni bisogna aspettare verissimo quello che è il tempo dei 3 anni ma è vero che quel tempo dei 3 anni era stato promesso al tempo dell'assessore Rometti ora Rometti non è più assessore, ora Scecchianella, ora è stata fatta una nuova giunta e ora è stato ridetto 3 anni per completare quella tratta io sono contento che riapre questa ferrovia, un po' meno perché posso andare così piano e penso ai tanti pendolari che sono costretti a fare avanti e dietro perdere 3 ore per fare 45-50 km diventa una cosa assurda nonostante tutto la mia più cordiale buona serata